A Marina di Camerota nuove esplosioni sulla strada del Mingardo per la messa in sicurezza del costone roccioso e della carreggiata. Anche ieri sono stati fatti brillare altri massi in bilico. Operazioni che hanno suscitato nuove reazioni da parte di chi da tempo si oppone alle modalità che sta utilizzando il sindaco Mario Scarpitta per i lavori di sommurgenza in corso da sei mesi circa. Sotto accusa le esplosioni che avrebbero distrutto la falesia. È un disastro ambientale quello che si sta consumando a Camerota dichiara il presidente di Italia Nostra sezione Cilento Lucano Teresa Rotella che proprio ieri ha presentato un altro esposto alla procura della Repubblica di Vallo della Lucania chiedendo di fare subito chiarezza. La stessa cosa chiede oggi al procuratore attraverso un post su Facebook il presidente della fondazione Angelo Vassallo. La procura scrive Dario Vassallo deve dare delle spiegazioni. Camerota non è un mondo a parte. Queste le reazioni scattate ieri dopo le esplosioni. Reazioni che sembrano non intimidire il sindaco Mario Scarpitta. Oggi il primo cittadino ha diffuso alla stampa un videomessaggio nel quale si mostra sereno all'interno del cantiere tanto chiacchierato e contestato e altrettanto serenamente spiega i lavori in corso e i tempi di ultimazione rinviando più in là le risposte agli interrogativi che sono maturati in questi mesi di lavori. Ai cittadini di Camerota intanto interessa che la strada venga aperta al più presto. C'è chi per accompagnare il figlio a scuola a Valo della Lucania impiega con l'auto un'ora e mezza. Scarpitta nel suo videomessaggio annuncia l'imminente apertura della strada.